4, 5, 6, 7, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 Un po' più difficile Spiegci quella giocoglia Dai al menù forci Vai Un po' sganciato, sempre in contattura, ok? Ragazzi non usate il ritmo costante Con il ritmo costante potete pensare alla cena Vedete questa mano avanti Io entro qui, ok? Se tu non ti chiudi con un guantino a rendere mea Mi sfatto dalla sua subito, ok? Sì, 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 ok Attacco Push Esco di qui Si crea lo spazio Vado di qui Push Utilizzo il mio bacino e il mio corpo In modo che la rotazione sia massimale La schiena sempre di qua Perché mi copro dall'utilizzo delle gambe Prendete Sì, sì, sì Mi copro dall'utilizzo delle gambe E quindi lo spazio E quindi la rotazione sia massimale E quindi la rotazione sia massimale Sì, sì, sì Grazie a tutti.